Grazie a tutti. Hanno manifestato questa mattina in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste per chiedere il ritorno delle lezioni in presenza e investimenti nel settore della scuola. La manifestazione si è svolta nella giornata di mobilitazione nazionale proclamata dai Cobas, alla quale hanno aderito a livello locale il Comitato Priorità alla Scuola, Unione degli Studenti, l'Inche e non una di meno. Cambiamo argomento. Questo resta nel carcere minorile di Treviso il quindicenne accusato di aver accoltellato Marta Novello, la 26enne aggredita con una ventina difendenti mentre faceva jogging a Marocco di Mogliano. Il GIP nell'udienza di questa mattina ha convalidato le accuse di tentato omicidio e tentata rapina aggravata. Una garage di circa 60 metri quadri adibito a bar con cibi e bevande intorno, una serie di barche con i clienti che consumavano tranquillamente in barba le misure anti-Covid che vietano qualsiasi assembramento e che hanno disposto la chiusura dei locali. Ma non è tutto. Quel bar era completamente abusivo, non esisteva infatti alcuna licenza commerciale né sanitaria. Per questo i finanzieri del reparto operativo aereo navale di Venezia nei giorni scorsi hanno sottoposto a sequestro un locale completamente abusivo a Chioggia. I militari durante un controllo hanno notato sulla riva del canale della Fossetta un assembramento di persone e barche da diporto proprio in corrispondenza del garage. Alla vista della guardia di finanza le persone presenti si sono date alla fuga e le fiamme gialle hanno bloccato sul posto il proprietario del garage e tre clienti rimasti. In corante del grande cartello che avvisa della presenza della telecamera, una donna di 60 anni di treviso ha continuato a depositare sacchi di rifiuti, in particolare indumenti, tra questi anche una pelliccia ecologica. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa in via Castello d'Amore, nelle immediate vicinanze dello stadio Tenni, dove gli agenti del nucleo antidegrado della polizia locale avevano posizionato una telecamera. Il cartello che avvertiva che l'area, caratterizzata negli ultimi tempi da alcuni episodi di abbandono di rifiuti, era video sorvegliata. Disinteressandosi completamente delle norme sul conferimento dei rifiuti e sulla presenza del controllo delle telecamere, la signora ha in due occasioni a distanza di una settimana l'una dall'altra abbandonato sacchetti di indumenti. Gli operatori hanno elevato un doppio verbale da 400 euro ciascuno. Dopo una settimana e mezza di chiusura, metto in vendita il negozio. A parlare Flavia Snidero, titolare di un salone di via Squini a Udine. I clienti di via Flavia comunque non si allarmino, si tratta solo di una provocazione, ha spiegato lei stessa. Vorrei che un po' tutta Udine fosse tappezzata di questi cartelli. Abbiamo dei protocolli rigidi che ci permettono di lavorare in massima sicurezza. Non capisco perché non possiamo tenere aperto dopo tutto quello che abbiamo investito. Flavia ci tiene a sottolineare che non ha chiesto nessun ristoro e va bene così. Vorrei solo poter lavorare e portare avanti la mia vita come lo vorrebbero tanti altri miei colleghi. Il furto risale la notte tra il 31 maggio e il primo giugno di vent'anni fa. Sono stati rubati due angeli del Cinquecento. I ladri hanno colpito la chiesa di San Michele Arcangelo di Monzambano in provincia di Mato. Nel bottino finì anche una coppia di angeli realizzati in legno dorato e policromo, opera di un artista toscano. Hanno un valore che si aggira attorno ai 20.000 euro. Spariti nel nulla, assieme ad altri arredi oggetti sacri di valore, sono spuntati qualche giorno fa in un deposito spedizioni di Marghera. A interessare il caso i carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia è stata una segnalazione dell'ufficio esportazione della soprintendenza. Considerando il numero di imprese che nel 2020 hanno ricevuto aiuti di Stato in rapporto al totale delle aziende attive sul territorio, il Friuli Venezia Giulia è secondo nella classifica tra regioni italiane. Questo quanto emerge dal primo osservatorio sugli aiuti di Stato realizzato da Cribis, società del gruppo CRIF, che ha incrociato i dati del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che nella top ten delle province con la più alta percentuale di imprese raggiunte dal sostegno economico e vede un podio tutto regionale. Se al primo posto troviamo Austin, seconda, terza e quarta posizione, troviamo rispettivamente Gorizia, 42,5% le imprese che hanno ricevuto aiuti, Udine 40,2% e Trieste con il 39,8%. Subito dietro anche Pordenone con il 38,8% delle imprese in totale. Il numero delle aziende coinvolte nei quattro capoluoghi provinciali è pari a 37.345, dove in testa troviamo il capoluogo friulano con 18.029 imprese, 9.354 nel Pordenonese, 6.084 nell'area triestina e 3.878 nel Lisontino. Tra sabato e domenica il passaggio di un fronte occidentale a nord delle Alpi determinerà l'afflusso di correnti molto umide negli strati medio-bassi della nostra regione. Per quanto riguarda la giornata di domani, cielo in prevalenza nuvoloso, con foschie, possibili deboli piogge, specie dal pomeriggio, più probabili e frequenti verso est e le prealpi. Non si esclude qualche rovescio, possibile qualche temperatura a più bassa, temporanee schiarite su costa e tarvisiano, sulla costa vento da sud o sud ovest moderato. L'avvento di temperature, le minime in pianura fra 7 e 9, le massime fra 14 e 16, sulla costa minime fra 9 e 11, le massime fra 12 e 14 gradi centigradi. Per quanto riguarda la domenica, cielo in prevalenza nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse, tra la notte e il mattino, dal pomeriggio tempo migliore, con variabilità sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata. Passiamo al Veneto, domani cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nella seconda parte di giornata, soprattutto sulle zone montane, probabili nebbia in pianura fino al mattino, temperature minime in aumento, localmente anche sensibile in pianura e nelle valli, massime diminuzioni in montagna e locale variazione in pianura. Per domenica, nella prima parte della giornata, cielo in prevalenza nuvoloso, molto nuvoloso, con tendenza al diradamento della nuvolosità a partire dalle ore centrali. In serata, possibili foschie e locali nebbie in pianura. Previsioni e cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento, dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.